musica bella ragazzi che non è bentornati in questo nuovo video siamo tratti su code buon anno primo video dell'anno qui sul secondo canale piccola parentesi iniziale dall'ultimo video ho fatto più di 50 livelli per due clip del montage una fatica però tecnicamente me ne mancano ancora un paio top e l'abbiamo finito musica 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 mi piacerebbe tanto farlo uscire verso fine mese massimo inizio febbraio ci sto veramente buttando via tutta la vita non so perché perché alla fine poi è più una chiusa mia personale di questo periodo un po' più per la malinconia dei tempi però verrà una cosa molto carina realisticamente sarebbe bello farlo uscire come speciale 30.000 iscritti su questo secondo canale quindi nel caso un bel like, un commentino e un'iscrizione iscrivetevi anche al secondo canale perché qua facciamo gameplay gameplay che al momento si sposta un attimo dallo sniper perché andremo a fare vortex ora non mi sembra di averla mai vista sta modalità è un tutti contro tutti dove si arriva a 25 kill e non a 30 su queste tre mappe che sono query, rust e scrapyard versione satanica, zombesca insomma avete visto qua belle mappe devo dire cioè sono sempre le solite non è che hanno avuto molta fantasia però sono ben addobbate a horror dove un giocatore ha la ray gun in mano che one shot a tutti e si vede sulla mappa dov'è come se fosse un juggernaut e chiunque lo ammazza si pide la ray gun e alla fine è un tutti contro tutti noi oggi andiamo a giocarcelo vorrei farvi vedere tutte e tre le mappe e fare tre partitelle vediamo un po' come va abbasso la sensibilità perché oggi sarà un trauma anche quello avendo giocato con 14 tornare a giocare a 8, 7 insomma allora partiamo con tetanus che è la versione malata di rust non c'è silenzio di tomba l'han tolto anche se mettete gli stivali furtivi quindi io a sto punto userei l'MCV va che bello cioè esteticamente bella eh mi devo ficcare dentro raga e vediamo cosa combiniamo è la prima volta che giochiamo in tutti contro tutti da quando beh ragazzi iniziamo la partita qua eh prima volta giochiamo in tutti contro tutti da quando da quando da quest'anno un tempo ci giocavo molto di più oddio guarda dov'è il tipo con il la ray gun e gliel'abbiamo rubata bro bro sentivo i colpi da dietro bro pur cacana la fiddo la fiddo è devastante regà sta cosa scappa c'è scritto one shot c'è scritto one shot gli ha fatto hitmarker la mia ray gun abbiamo preso già un vantaggio demoniaco ma perchè la ray gun è sgravata guarda che gliela rubiamo di nuovo bello spawn eh belli spawn su rust metto vantaggio mi piace questa cosa è andata a caso se scappa 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 tutti là vabbè ragazzi porco diaz easy lobby per il momento una lobby abbastanza chill per ora vola non dovrebbero mancarne poche tipo tre stannato questo last one alla fine alla fine girando qua attorno ragazzi gran partita abbiamo trovato una lobby abbastanza chill per iniziare a 25 4 ho fatto va bene la prossima secondo me mi mangiano la testa sempre così fin troppo bene devo girare al momento vabbè e rasta ce la siamo tolta mo query e scrapyard devo beccare non so se qualche pazzo voterà mai query regà l'olger dai l'olger sto prendendo armi che avevo qua da millenni mai più usate hai da raccogliere lì in mezzo perfetto lui sapeva che arrivavo beh provo a disinstallarlo una win quella dopo sembra già di giocare la cvl guarda che andiamo a provare a prendere sta reagan va raga guarda come gioca sto coso un playable sta lobby ragazzi vittoria lo stesso siamo arrivati secondi 22-13 questa pagina non l'avete mai vista perché dopo che ne vinci una bene le altre diventano demoniache andiamo a cercarne un'altra porca puttana ma quello è sottoterra allora sti deviati sono riusciti a votare finalmente query la prima che si gioca è sempre molto chill poi dopo in base a come giochi quella c'è da dire bella è la mappa se non fosse che query devo anche stare un po' zitto per sentire i passi perché qua sentono i passi di tutti i miei compresi ecco il tipo vedi qua uno poi c'è sta musica devo togliere la musica siamo a un concerto dell'opera ogni volta che iniziamo la partita qua non c'è un cazzo di nessuno bisogna andare nell'angolino di là dell'altra parte della mappa stavo per disinstallare perché mi sono dimenticato che seconda arma avevo stavo per fare il fail della vita ma che cazzo di secondare mi son messo io ok guarda che lo vedevo attraverso il muro ma vorrei tornare a pigliarmi noi ci leviamo dai coglioni eh raga la mira con le armi è pessima al momento troppo tempo col cecchino non so più mirare con le armi fisse brutto brutto partita una lobby un po' più lenta questa mi piacerebbe farlo da questa distanza ma porco cane che secondario c'è quella del cecchino qua no dai sto prendendo del tempo qua ragazzi è lì guarda il bro guarda il bro che cazzo stava facendo con che arma gioca? non lo chiedo proviamo ad andare a prendere la rega anche se qua ecco cheat abbastanza useless in sta mappa bello beh vedi a questa distanza c'è quella ci mette 40 secondi per arrivare fai in tempo a morire vedi cioè da lontano non è utile sta cosa bro ma tu sei nemico ma dio guarda wow wow eh si hanno fatto in modo che chi ha la rega si può vedere su tutta la mappa dov'è ma chi ha la rega è in silenzio e dovrebbe riuscire a sentire i passi degli altri capito è difficile lì madonna ragazzi non entra eh non entra pure tardi no ragazzi cioè su raft così bellissima qua è inutilizzabile siamo pari lì buona eh ragazzi non entra il colpo ragazzi è è inutilizzabile purtroppo mi dispiace dirlo ma alcune le ho smirate questa non mi sembrava così tanto smirata ottimo questo perché c'è la feed dello stesso colore qua tutta rossa ma che cazzo cambiatelo un colore quella e vorrei arrivare fino alla ma è fuoco incrociato eh non sale nessuno lasciata in mezzo la mappa la reagan perché nessuno se la incula in sta mappa guarda che ne ho ferito uno fuoco incrociato proviamo dai due kill per favore bro questa l'ho tryhardata come un pazzo schifoso ragazzi 25-3 quelle tre morti tra l'altro perché c'evo in mano la reagan che non sparava un cazzo ah non me ne fotte più di tanto però dato che volevo portare un bel gameplay cercare di vincere almeno un game era importante gli do un altro try a spoiler ma arriviamo sempre dopo una win infatti vedete che la lobby non è che è proprio fatta da da signorini che la vinca non la vinca due performance su tre almeno le abbiamo fatte dai proviamo ad arrivare anche qua in top 3 in qualche modo c'è già qua il tipo male malissimo devo fare come gli zombie devo sparargli ai piedi vedi devo sparare come se fossero zombie ai piedi eh sì vedi non sul corpo ma sui piedi chi cazzo mi ha sparato no mica l'ho visto vabbè con calma a beccare quelli che sono qua camperati no lasciami in pace zio so lillo ah lillo fare il gun no bene mi sono spaventato no ragazzi è pur di nuovo perché non posso sparare attraverso i muri fa danno what come come è successa sta cosa eh ragazzi però eh sta puttana dopo un po' è arrivata eh eh lo sapevo niente abbiamo perso il vantaggio tutto quello che avevamo accumulato fino a questo momento tutti ci l'hanno inculato però no 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 così no e niente raga era una bella partita era una bella partita l'abbiamo sdroggeggiata troppo nel finale 20-10 manco male questo qua ha fatto l'expluat questo qua tra l'altro va che è psicopatico eh questo qua era quello che continuava a venirci a pigliare nell'angolino lì vestito da tipa la tv verite vuole anche questo io su scrapyard oggi non ce vinco era giusto per l'experience per oggi vi lascio con questi tre game e mezzo due win bellissime due partite su scrapyard che non siamo riusciti a portare alla vittoria però insomma lo skill based matchmaking ti fa fare una gran partita e poi iniziano a essere tutte con l'asciugamano gigante mi raccomando ragazzi un bel mi piace un commentino fatemi sapere questa modalità come vi sembra se l'avete provata se vi piace noi ci vediamo presto sia con il torneo di fifa che sta continuando ma soprattutto mi piacerebbe portarvi finalmente a questo montage ci vorrà ancora un pochino però iscrivetevi perché sarebbe bello far uscire ai 30.000 iscritti di questo canale da romper oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao